Buonasera a tutti e benvenuti al tradizionale appuntamento con la rassegna stampa dell'informatore. Il giornale che troverete in edicola domani, giovedì 20 gennaio 2022. In primo piano avremo la ex polveriera, il bene di proprietà comunale dismesso da parecchi anni e che verse in una situazione di degrado. Forse c'è una svolta per questo bene. C'è un'associazione di Vigevano, Unuci, che ha presentato un progetto di recupero. Ci sarà la sede delle GEV, le Guardie Ecologiche Volontarie, ma soprattutto anche delle funzioni didattiche e di educazione ambientale rivolte a ragazzi delle scuole e alla città. Vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come si concretizzerà questa proposta che, ripetiamo, è stata ufficialmente depositata in Comune. Quello che è in mano è il decreto, comodamente scaricabile dal sito web del Comune, con il quale il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, designa i nominativi dei futuri amministratori di ASM Vigevano e Romellina. Ci sono alcune ipotesi contenute in questo decreto che verrà sottoposto all'Assemblea dei Soci, la scelta di un amministratore unico, un consiglio di amministrazione con tre membri e uno a cinque. Ma la decisione del primo cittadino, la proposta che verrà portata all'Assemblea dei Soci, sarà quella di continuare con l'amministratore unico, come era Gianluca Zorzoli, di missionare a fine dicembre. E la prescelta per questa posizione è la consulente del lavoro, Veronica Passarella. Per la cronaca ci occuperemo della richiesta avanzata da cinque sindaci della Lomellina, quello di Vigevano in testa, al comando provinciale dei Vigili del Fuoco per richiedere una autoscala in dotazione al territorio della Lomellina, dal quale manca da quattro anni. Ci occuperemo poi anche di un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla provinciale che collega Mortara con Cerniago. Tre le persone coinvolte, due sono in gravi condizioni. La scorsa settimana si era registrata una prima diminuzione del numero dei contagi. Questa settimana il dato si è consolidato. In provincia di Pavia il calo di nuovi positivi è stato dell'11%. Purtroppo continuano invece ad aumentare i ricoveri e i decessi, di cosa peraltro attesa perché il riscontro si vede a distanza di settimane. Attualmente a Vigevano ci sono 49 ricoverati Covid, di cui 41 in ospedale, 5 in terapia intensiva e gli altri 8 all'Istituto Clinico Beato Matteo. Grazie per la visione!